Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi in questo video vi voglio portare quella che è una guida, chiamiamola guida, a FIFA 21 Ultimate Team. Diciamo quelli che sono dei piccoli consigli che mi sento di darvi per cercare di startare al meglio quello che sarà FIFA 21 Ultimate Team e EA Play con le 10 ore di Early Access che avremo disponibili dal 1 ottobre. Intanto in sottofondo vedete scorrere quelle che sono delle clip prese di gameplay durante l'early capture registrato da Game Changers, in particolare qui abbiamo il buon Matt HD Gamer che si va a destreggiare sul nuovo titolo. E mentre scorrono queste immagini il primo consiglio che io mi sento di darvi è relativo proprio all'EA Access, all'EA Play, ossia dovete assolutamente focalizzarvi sul giocato. Di conseguenza giocare, se appunto non mettete FIFA Points, piuttosto che andare immediatamente in Rivals dove troverete magari delle squadrette già un po' più attrezzate, potete anche fare le squad battles visto che comunque arrivato poi a fine settimana vi darà un bel boost anche in concomitanza dell'uscita ufficiale del gioco, soprattutto perché sappiamo che insomma il refresh delle battles ormai è a nostra disposizione, non c'è più un tot di ore entro le quali si aggiornano, quindi potete giocarne quante vi pare e decidere più o meno a che fascia puntare per arrivare ai premi. Quindi ridurre all'osso tutte quelle che sono operazioni di club management, acquisti, apertura pacchetti se volete aprire pacchetti, tutto questo comparto qui portatelo a fare sulla web app di cui parleremo in un video successivo, perché infatti la web app uscirà il 30 e dedicheremo alla web app un video a parte. Per quanto riguarda poi ulteriore cosa e consiglio sul giocato è che se andate a mettere dei FIFA Points, soprattutto se ne andate a mettere una cifra tra virgolette esigua, consiglio assolutamente che io mi sento di darvi è quello di fare draft, di fare draft per due motivi. Il primo motivo è che appunto giocate, quindi fate anche un lavoro di conoscenza del gioco, delle meccaniche eccetera. Il secondo fattore positivo è che andate ad aprire dei pacchetti che effettivamente nel mercato fino almeno a fine di ottobre-novembre non li trovate, perché avrete solamente pacchetti da 100 o da 150 FIFA Points, mentre se andate a vincere il draft o comunque arrivate in semifinale, trovate dei pacchetti assolutamente migliori. Quindi draft assolutamente per chi mette FIFA Points, soprattutto se sono pochi. Ma anche se ne mettete tanti, fate comunque secondo me un 60% draft e 40% di spacchettamento vero e proprio, a meno che le cifre non sono proprio elevate. Per quanto riguarda poi un ulteriore fattore relativo alla possibilità di ottenere guadagno, sapete bene che ormai il catalogo di foot è stato eliminato, quindi non c'è più la possibilità di andare ad acquisire i crediti dal catalogo, il bonus relativo alle partite che andate a giocare, ma questo si acquisisce tramite due modi. Il primo è come premio se avete giocato a FIFA 20, e il secondo è tramite season pass, quella sorta di pass alla Fortnite che è stato inserito da FIFA 20 a proposito. Quindi andare rapidamente a fare quegli obiettivi che vi danno la possibilità di portarvi a casa sto bonus, che vi permette dunque di guadagnare crediti per ogni partita che andate a fare, e che quindi vi permette di andare ad accumulare comunque un gruzzoletto nelle partite iniziali da non andare a sottovalutare. Una volta che comunque state iniziando a mettere creditucci da parte, a questo punto il mio consiglio è quello di andare a buildare una squadretta con giocatori oro non rari, oppure oro rari, ma che comunque il suo valore è basso. Così qualora si dovessero alzare ci andate in guadagno, o qualora, insomma, questo non dovesse succedere, comunque non ci andate in perdita, visto che l'obiettivo è quello di prenderli a prezzo di scarto. E con questa squadretta che è comunque iniziale potete anche magari provare ad andare in rivals, provare ad andare in rivals magari senza grosse aspettative, cercando di accumulare qualche punticino in ottica WL, o più banalmente comunque andando a pensare di andare a riscattare i premi delle rivals a fine settimana, che sommati a quelli delle battles vi permetteranno di accumulare ulteriore gruzzolo per i vostri discorsi. E una volta messo da parte questo gruzzolo vi si aprono due strade. La prima è quella di iniziare a buildare una squadra, diciamo, che possa essere tra virgolette definitiva, o comunque per la prima WL la fate sperimentale, andate ad aggiungere tasselli mano a mano che arrivate alla soglia di crediti di quel determinato giocatore. E questa squadra qua io vi consiglio di usarla quando siete arrivati almeno a 7 undicesimi, in maniera tale che la squadretta è un po' più completa e l'andate poi a completare definitivamente con gli ultimi pezzi una volta terminata, però intanto magari soffrite di meno quando beccate qualcuno che ha la squadra più attrezzata. Oppure un'altra strada che potete andare a intraprendere anche parallelamente a questa è quella di fare qualche investimento di compravendita, andando a sfruttare quelli che sono i soliti metodi e che, insomma, non vi sto qua a spiegare io innanzitutto, perché non ne sono proprio un esperto. Dal mio piccolo vi posso dire di cercare di flippare le carte, ossia comprarle a un prezzo più basso, rivenderle a un prezzo più alto, magari sfruttando quelle che sono le soluzioni dell'SBC che trovate su Footbeam. e questo ci porta ad un altro discorso, proprio quello delle sfide avanzate, delle SBC avanzate, che assolutamente, raga, una volta fatto una certa soia di crediti vanno fatte, perché nel bene o nel male, negli anni, a me hanno portato sempre un profitto e secondo me c'è una sorta di incantesimo su quelle sfide, vanno fatte, raga, a tutti i costi, perché da quelle si rischia di sculare pesante, e se sculate pesante da quelle magari vi si è svolta la stagione, perché con quella magari andate a fare un bel profit e vi mettete a posto per almeno l'inizio del game. Quindi, fare queste SBC, però sbatteteci un po' voi la testa, cercate di sfruttare magari quelli che sono i giocatori che avete nel club o che avete trovato, perché se andate a fare quelle che sono le soluzioni di Footbeam, andate a fare male, raga, perché lì si iniziano ad alzare i prezzi di quelle carte spammate nelle soluzioni, la gente ci specula sopra, quindi lì andate a fare il gioco dei trader e di quelli che investono su quelle carte, a meno che non vi vogliate mettere anche voi qua a investire, ma comunque non è facile, non è facile, perché una volta che quelle carte esplodono, esplodono e non c'è più modo di guadagnarci sopra. Una volta quindi fatte tutte queste operazioni, si presume che ci siamo anche avvicinati a quella che è la prima VL, prima VL che è un po' la chiave di volta per quanto riguarda quello che è l'inizio di Foot, perché da lì in po', insomma, mettere crediti da parte sarà sicuramente più facile, anche grazie a premi che sono ovviamente molto succulenti, in base ai risultati che riusciremo ad ottenere, e ovviamente questo dipende anche in base a quella che è la squadra che avete messo da parte, perché le mani contano, ma ovviamente la squadra aiuta, quindi non vi avvilite se magari le prime VL avete una squadretta un po' così, e venite outplayati da chi ha delle squadrette migliori, però vedete che bene o male è il vostro livello, perché il vostro momento arriverà, quindi giocatele per cercare di mettere crediti da parte, io all'inizio per quanto riguarda ad esempio le Rivals consiglio di prendere i crediti per stare sul sicuro, poi magari una volta messi i crediti da parte, se si vuole provare a sculare, prendiamo i pacchi e via. Quindi, raga, fondamentalmente Foot lo conosciamo tutti, questa è una guida un po' per quelli un po' più inesperti, o per chi è esperto e magari vuole aggiungere al proprio bagaglio di conoscenze qualcosa, e spero di averlo arricchito in tal senso, e questo video è tutto, ci vediamo il 29 con quello che sarà il video riguardante poi la web app, e nuda, raga, sapete, mi trovate ogni giorno su Twitch, qui cercherò di mantenere una media di un video più o meno ogni due giorni, e nuda, raga, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Peace.